Abruzzo anziano è sempre più spopolato e quanto emerge in sintesi dall'ultimo censimento dell'Istat svolto tra il 2018 e il 2019 prima che il covid travolgesse le nostre vite. In Abruzzo vivono 1.293.941 persone, questo la montare della popolazione censita il 31 dicembre 2019. Rispetto all'anno precedente vi è stata una riduzione di 6.704 abitanti, come se fosse scomparsa l'intera popolazione di Castel di Sangro. 13.368 sono invece gli abitanti persi dall'accensimento del 2011. In otto anni è come se tutti i cittadini di San Giovanni Teatino avessero deciso di trasferirsi altrove. Più del 24% dei residenti è concentrato nella provincia di Pescara, questa è l'unica tra le quattro province a non perdere abitanti. È il Chietino a soffrire maggiormente lo spopolamento, i comuni che resistono sono soprattutto quelli della costa, fatta eccezione per Avezzano. Il comune più popoloso si conferma a Pescara, con circa 120.000 abitanti, il più piccolo è Montelapiano, in provincia di Chieti, con appena 82 abitanti. L'Abruzzo, che ha più donne che uomini, è più anziano rispetto alla media nazionale. Qui l'età media è di 46 anni, mentre è di 45,2 nel resto d'Italia. Il comune con in percentuale più giovani è Santa Maria in Baro, quello con più anziani, San Benedetto e Imperillis. Lo spopolamento è frenato dagli stranieri, questi sono aumentati in media di 2,6 punti percentuali ogni anno. Abbassano anche l'età media della popolazione, in quanto mediamente sono 11 anni più giovani. In Abruzzo quasi due terzi degli stranieri sono europei. Il 18% è africano, l'11% asiatico e quasi il 6% americano. La comunità più numerosa è quella rumena. Dal 2011 inoltre dimezzati gli analfabeti, mentre le persone con un titolo universitario rappresentano il 15,7%, 3,2 punti percentuali in più rispetto a 8 anni prima. Permane comunque il problema lavoro. Il tasso di disoccupazione in Abruzzo, infatti, è più alto rispetto alla media nazionale. Qui è del 14%, del 13% nel resto d'Italia. E cresce se consideriamo solo le donne. Se gli uomini disoccupati sono il 12,2% del totale, le donne sono il 16,5%. Facendo il discorso inverso, il gap è ancora più evidente. Il tasso di occupazione maschile è oltre 17 punti percentuali superiore rispetto a quello femminile, a dimostrazione di uno squilibrio di genere radicato nel mercato del lavoro, ma anche negli altri ambiti della società. Per una donna abruzzese, infatti, è più difficile, rispetto a un uomo, essere economicamente indipendente.